Per Bascolo questo pallone mentre c'è l'alzata e va sull'ascensore Gerald Beverley. Un'altra persa, molto confusi, alcuni attacchi delle due squadre e poi arriva lui. Flaccadori vuole provare a fare correre un po', alla fine sbaglia completamente, permette il contropiede di Audo Abbas che va su a due mani. Poco ritmo o nulla, arriva l'errore, il gran pallone di Kraft per Forrai e si fa pregare. Fischio favorevole, è lui ad andare sotto per Jovanovic, tiene Abbas contro di lui ma non ha la verticalità. Grande rubata da parte di Cunningham che va poi su per la schiacciata. 7 a 2 di parziale per Trento che perde completamente, in questo caso la difesa di Brescia, grandissima serata per Dotto, classica giocata con la palla che gira benissimo lo spazio per la tripla di Marmol. Si va dall'altra parte con il pallone per Mian, piedi a posto, la tripla di Fabio Mian si alza per un'altra tripla, un altro errore Abbas a provare ad andare fino in fondo. Ad evitare Flaccadori. Difficile pallone per Hamilton, gran rubata da parte di Mian e la schiacciata dell'ex Pistoia. Si può dire lo stesso per Abbas che va profondo da Sacchetti che trova un grandissimo canestro. Gran pallone di Hogue per Flaccadori. Perso. Prenderà un tiro da tre, è proprio così, si alza per la tripla, va a lungo, un altro gran lavoro a rimbalzo di Moss, la tripla di Vitali! La tripla di Vitali a tenere vivo i suoi. No! No, you can't Cade! No, 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 no! You can't Cade! No, 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 no! You can't Cade! S notwendiglios dal